il dottore mi ha fatto l'esame del sudore e dice che l'ho misurato la temperatura interna e dice che mi surriscaldo troppo quindi perdo dei surriscaldi questo cazzo di evento questa era invece la scuola dove andavano le magistrali sono le surriscaldi ora è in angelo veramente in angelo una di quelle pavettine